Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come state leggendo dal titolo oggi voglio parlarvi della differenza che c'è tra presentare un videogioco in un evento e realizzare una presentazione di un videogioco scaricabile dal proprio sito internet Bene, ci sono tante cose da considerare che oggi in questo video ne parleremo, sono tutte cose molto importanti secondo me, poi vi lascio anche una serie di articoli in descrizione Perché ragazzi vi ricordo che presentare un videogioco potrebbe effettivamente comportare l'acquisizione da parte di un publisher o la collaborazione con un publisher oppure più persone che iniziano ad avvicinarsi al vostro videogioco o meno Quindi mi raccomando, prima di iniziare però voglio ricordarvi che ogni giorno in questo canale esce un video e sto ridendo perché qualche giorno fa sono usciti centinaia di meme su questa cosa Perché ogni giorno come sapete esce un canale su questo video, vi ricordo quindi che vi basta semplicemente cliccare il bottone iscriviti per rimanere sempre aggiornati con il mondo dello sviluppo di videogiochi Bene ragazzi, allora, quando ho iniziato a studiare un po' di marketing, un po' di PNL e così via, mi sono reso conto che ci sono modi e modi per presentare un progetto, un'idea o qualsiasi cosa Specialmente quando si sta facendo un pitch, ovvero quando si è in un evento e quindi noi abbiamo la nostra presentazione dietro, il nostro telecomandino e dobbiamo parlare ad un pubblico L'anno scorso ad esempio sono stato invitato sul palco Omen al Milano Games Week e ho parlato di come è possibile trasformare una passione in professione, ovviamente iniziando a creare videogiochi E tra un po' vi parlerò anche delle slide che ho fatto lì, ma prima di parlare di questo dobbiamo fare una serie di premesse Quando si è su un palco che si sta ad esempio mostrando il nostro videogioco o una presentazione in particolare, bisogna tenere a mente una serie di cose in particolare La prima cosa è l'attenzione da parte degli utenti, dobbiamo essere brevi, non perdere troppo tempo, perché è molto probabile ad esempio sulla base dell'orario in cui voi siete sul palco che la gente è stanca o meno stanca Ad esempio siamo alla fine della giornata, è molto probabile che le persone sono più stanche rispetto all'inizio di un evento in particolare Ci sono anche tutte queste cose da considerare che vanno a influenzare l'attenzione dalla parte del pubblico e quindi effettivamente la conversione del nostro intervento, del nostro pitch che facciamo Quindi la prima cosa da considerare è il tasso di attenzione, che vi voglio ricordare è sempre più basso nel tempo Ma altra cosa importante che bisogna considerare è che quando noi stiamo facendo una presentazione, io ad esempio personalmente quello che faccio è mettere meno testo possibile nella presentazione Immaginate questa scena, che io sono sul palco come state vedendo in questa foto, le persone sono concentrate a vedere me e non lo schermo dietro Perché sullo schermo ci sono delle immagini o comunque dei grafici, dei numeri che facilmente si possono leggere e memorizzare E che vanno a dare un'immagine a quello che io sto dicendo Se io vado a mettere tanto testo dietro, le persone se vogliono leggere il testo sulla presentazione non possono stare attenti a quello che io dico E noi non vogliamo che accada questo, le persone devono stare attenti e capire quello che io voglio dire, ovviamente Quindi ci sono anche queste cose da fare, questa cosa l'ho imparata a scuola perché il nostro docente quello che faceva, ad esempio è quando ci interrogava Dovevamo portare ogni giorno una presentazione, a me piaceva tantissimo fare queste cose, mettevo meno testo possibile Ovviamente al docente piaceva questa cosa perché nessuno poteva leggere, quindi stavano tutti attenti a quello che dicevo io Ma attraverso le slide mostravo delle immagini e facevo capire appunto quello che io volessi dire Vi faccio subito vedere proprio questa cosa, in breve Siamo qui all'interno di questa presentazione, creare i videogiochi da passione a professione Qui racconto chi sono, quindi faccio vedere una foto, Global Game Gen 2016, ringrazio perché questa è una breve introduzione Che ringrazia appunto tutte le persone che mi hanno invitato lì Poi faccio vedere cosa ho fatto e facevo vedere i 7 advert game che ho fatto per mondo convenienza Quindi avevo fatto ancora soltanto questi piccoli progetti, ne parlo con un'immagine Subito dopo questa parte cosa parlo? Parlo della definizione di un obiettivo Quindi ho mostrato semplicemente un'immagine che sta a indicare la definizione di un obiettivo In questo caso una freccia che fa centro E racconto tutto quello che io voglio raccontare Tutto quello che io voglio dire all'interno di quella presentazione Subito dopo spiego come è possibile trasformare questa passione in professione E spiego che è importante essere presenti online Non bisogna mai lamentarsi Il nostro tempo è maggiore dei nostri soldi Perché il nostro tempo ha un valore maggiore dei nostri soldi E poi continua e così via Faccio anche delle domande al pubblico O faccio delle domande a cui io stesso rispondo Bene, diverse volte faccio presentazioni in questo modo Presentazioni semplici Questo perché io voglio che la massima concentrazione da parte di chi mi sta ascoltando Sia verso di me, non orientata sullo schermo Ma Samuele cosa ci vuoi introdurre? Bene, eccoci qui a parlare dell'argomento di oggi Se siete stati invitati ad esempio ad un evento in particolare Dove dovete presentare un vostro videogioco E lì vi consiglio anche di partecipare alla Global Game Jam Perché molte volte quando si fa la Global Game Jam In quasi tutti gli eventi tranne le Global Game Jam grandi Come quella che ho fatto qui a Milano Si può presentare il proprio videogioco Ed è veramente interessante preparare delle slide per presentarlo Io l'ho fatto sia con Inside E con tutti i videogiochi che ho fatto nelle varie Global E cosa succede? Che noi abbiamo due minuti di tempo In due minuti quello che io voglio raccontare È l'obiettivo del gioco Quello che si fa all'interno del gioco È il mio obiettivo principale quando sono su un palco E cosa voglio? Voglio che più persone possibili giocano al mio videogioco E quindi faccio delle presentazioni tali Spiego perché dovrebbero iniziare a giocare al mio videogioco Perché dovrebbero provarlo E perché dovrebbero darci dei feedback Queste sono cose che servono Ma arriviamo al momento anche tra i più importanti di questo video Ovvero se siamo stati invitati ad un evento E a questo evento ci sono diversi publisher Quindi sono interessati all'inizio di una collaborazione Con diversi sviluppatori La presentazione è la chiave Per poter effettivamente stringere un accordo con un publisher È vero, molti di voi dicono È importante il gioco È verissimo Ma vi siete chiesti perché ad esempio Apple al WWDC Chiamiamolo così Fa una presentazione in quel modo Ogni cosa è studiata al millimetro Le parole dette Ogni cosa Ma lì si sta parlando di eventi giganteschi Cercano di mostrarti una cosa In modo tale che poi ti interessi di quel prodotto E a fine presentazione Clicchi sul bottone acquista sul loro sito E acquisti il loro prodotto Vi consiglio di analizzare anche queste piccole cose La presentazione che ha fatto Samsung ultimamente La presentazione Sony Molti dicono che non ha fatto una grande presentazione Ma non voglio esprimere un giudizio in questo video Se siamo su un palco E abbiamo 10 minuti del nostro tempo Anzi 5 minuti del nostro tempo Per presentare il nostro videogioco E far capire ai publisher Perché dovrebbe iniziare una collaborazione con noi Cosa dobbiamo fare? Beh, in breve dobbiamo spiegare chi siamo Molte volte un investitore, un publisher Investe non sul gioco Ma sulla persona Nel caso delle start up è così Ma il gioco è importante Tanto quanto le persone Vi faccio un esempio Se io ho già creato giochi di successo E vado su un palco E cerco publisher Il publisher dice Ok, ha fatto cento più volte C'è una percentuale maggiore Che lui di nuovo fa successo E quindi cosa faccio? Decido di investire di nuovo con lui Sicuramente se ha preso quella decisione Vuole sviluppare quel videogioco Allora forse Dato che ha fatto giochi di successo Ci sarà un motivo Quindi molte volte dipende anche Da chi siamo sul palco Quindi se non abbiamo mai fatto niente Bisogna fare una presentazione Completamente diversa Da una presentazione che vai a fare Quando invece hai già realizzato giochi di successo Vi faccio un esempio Immaginiamo che io ho fatto tantissimi giochi di successo Salgo sul palco e dico Sono Samuel del Sciacca Creatore di questo videogioco Che ha tenuto 5 milioni di download su Steam Sono lo sviluppatore di quest'altro videogioco Che ha raggiunto 20 milioni di download in totale E oggi sono qui a parlarvi di questo Vi rubo 5 minuti del vostro tempo Ed ecco cosa sto facendo È completamente diverso Inizi la presentazione con il botto E acquisisci maggiore attenzione da parte del pubblico Questo perché dicono Aspettiamo questo qui è lo sviluppatore di giochi veramente grossi Quindi ci sono tante cose che vanno considerate Bene Ricolleghiamoci anche all'inizio Quello che dobbiamo fare è mostrare i numeri I publisher ad esempio Sono interessati a vedere Perché dovrebbero investire nel vostro videogioco Che modello di business avete studiato per il vostro videogioco Gratis con pubblicità Oppure avete pensato di rilasciare il primo capitolo free E poi tutti gli altri a pagamento Loro questo vogliono sapere È ovvio che poi il publisher trova una via di mezzo Anche vi dà una mano A seconda di quello che stai sviluppando E anche su che piattaforma Però vuole capire appunto tutto sul videogioco Quindi bisogna presentarlo in un certo modo Anche la creazione di un trailer di un videogioco Di 30 secondi Se noi su 30 secondi mostriamo 20 secondi di scritte A maggio nel 2021 Esce questo videogioco E poi mi fai vedere 5 secondi del gioco Hai fatto perdere soltanto tempo alle persone che sono lì Perché non si capisce niente Quindi bisogna considerare tante cose Alcune persone mi hanno detto ad esempio Che una presentazione vale l'altra Non è assolutamente così È molto importante anche utilizzare un tono di voce diverso Molte ad esempio suggeriscono di alzare ogni tanto il tono della voce Per recuperare l'attenzione delle persone Ci sono tanti piccoli segreti nel mondo della comunicazione e della vendita Che servono appunto ad aiutare Ad avere maggiori interessi da parte del pubblico Sono piccole cose che poi fanno effettivamente la differenza Iniziare ad esempio la presentazione con un trailer potrebbe essere la scelta migliore A seconda del trailer Ma ci sono tante cose da considerare Quando stiamo facendo un pitch Rivolto a delle persone che vogliono scaricare il nostro videogioco Bisogna fare una presentazione completamente diversa Se si sta facendo un pitch su un palco Dove invece ci sono potenziali publisher che vogliono iniziare a collaborare con voi Perché i publisher sono interessati ai numeri Agli utenti Che target state prendendo come punto di riferimento Ci sono tutte queste cose che ovviamente il publisher vuole sapere E vuole sapere anche se io investo tot Come pensi di utilizzare questi soldi Ci sono tante cose da valutare Anzi bisogna considerare anche che ci sono degli interventi che si possono fare Su un palco ad esempio Quando si cercano fondi quindi soldi Quindi se tu hai bisogno di soldi da parte di un publisher O un investitore Per poter portare a termine il tuo videogioco E dargli una spinta anche in fase di marketing Bisogna fare una presentazione che fa capire a tutti gli interessati I miei soldi Che fine fanno Come vengono utilizzati E quindi tutte queste cose qui Non perdiamoci tanto in chiacchiere Almeno che non bisogna entrare molto nel dettaglio Quindi se non è richiesto che bisogna avere 40-50 minuti di disposizione Per parlare del vostro videogioco Allora in quel caso si Più si può entrare nel dettaglio La tecnica che utilizzo io è quella di utilizzare meno testi possibili Almeno che non bisogna per forza metterli E ovviamente se siete un team Considerate l'idea di magari far salire sul palco Non il programmatore ma il grafico Perché è più bravo ad intrattenere O a presentare un prodotto Bisogna considerare tutte queste cose Nel senso che ho visto presentazioni in cui Sono molto lente E quindi poi dopo già 5-7 minuti Voglio alzarmi Considerate tutte queste cose Basta cercare su internet e iniziare a studiare tutte queste cose E io sicuramente c'ho tanto ancora da vedere Ma veramente tanto 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 E soprattutto quello che consiglio di uno di voi E fate esperienza Buttatevi Fate esperienza su un palco Fate le vostre presentazioni anche brutte Perché da lì sicuramente potete imparare a farne di migliori Quindi ragazzi Fatemi sapere voi cosa ne pensate con un commento qui sotto Fatemi sapere se è importante per voi effettivamente creare un'ottima presentazione Oppure ve ne fregate altamente Vi ricordo anche che se state creando una presentazione Che si deve scaricare invece sul vostro sito internet Bene lì vi consiglio di mettere più testo possibile Perché nessuno sta parlando Se io vado su un sito di un videogioco E scarico la presentazione di quel videogioco Non c'è nessuno che mi spiega quelle immagini Quindi il testo ci vuole Quindi ci sono presentazioni e presentazioni Mi raccomando Fatemi sapere con un commento la vostra Lasciate un mega pollicione in su se vi è piaciuto questo video Ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video E allora ci vediamo domani Ciao Ciao Grazie a tutti.